C'è grande attesa per l'arrivo di Papa Francesco ad Assisi, fissato per venerdì mattina 12 novembre, in vista della quinta giornata mondiale dei poveri. Il Santo Padre incontrerà in forma privata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli un gruppo di 500 poveri provenienti da diverse parti d'Europa e trascorrerà con loro un momento di ascolto e preghiera.